Mister Semplici, domenica esordio della SPAL nella Coppa Italia dei Grandi. Allora, che squadra troveremo? Troveremo sicuramente un Messina in forma, un Messina che ha già fatto bene nell'amichevole pre-campionato, anche un'altra squadra di Serie B, che ha fatto molto bene nella partita precedente a un Siena, vincendo 3-0, è un reparto offensivo molto valido, quindi dovremo cercare di partire con il piglio giusto, la metà della giusta, cercando di mettere in campo le nostre qualità e provando a passare il turno, perché ci teniamo a ben figurare e quindi a crescere in aspettativa del campionato. La SPAL invece in che condizione fisica si trova? A dire discreta, sicuramente abbiamo lavorato tanto sotto l'aspetto fisico, ci aspetta un campionato molto lungo, 42 partite, quindi sotto questo aspetto magari siamo un po' in ritardo, ma anche perché voglio la squadra duri per così tante partite e quindi magari sotto questo aspetto non siamo brillantissimi, però è un lavoro che abbiamo fatto in previsione del campionato, la Coppa Italia ci interessa perché sicuramente ci teniamo a passare il turno, però magari non saremo brillanti come magari tra un mese. C'è molta curiosità tra i tifosi per vedere all'opera i nuovi arrivati, è concesso un po' di minuti a Perugia, pensiamo di vedere in campo qualche volto nuovo anche domenica a Forlì. La curiosità c'è anche da parte mia, questi sono ragazzi sicuramente di grande avvenire, ma devono confermare quello di buono che hanno fatto fino ad oggi nel settore giovanile e nazionale, hanno grande disponibilità e quindi sono convinto che da domenica ci daranno una mano importante per quello che sarà il nostro futuro.